allora passiamo a un nuovo numero di progetti verso il 2.022.1007 allora ci sta a tutti questo progetto un progetto a carica 3 in generale, in pari, il doppio della terza parola di parso della turi ma a parso della sicurezza di giuro un 8 primi, prossimo, calenza 8 secondi calenza, una prezzo maggiore, con la regia di me Grazie.